Abbiamo appena approvato il progetto che praticamente prevederà un po' in grande la riqualificazione totale dell'area, quindi ridistribuire un po' tutti i spazi e partiremo da subito con l'edificio praticamente alle nostre spalle che prevede la demolizione dell'edificio attuale e praticamente la ricostruzione di un nuovo edificio in cui verrà inserito il centro dell'impiego. Parte la rivoluzione alla Cadorna. Si tratta di un progetto da 4 milioni e mezzo. Per sostenere gli oneri di realizzazione, il Comune di Arezzo ha partecipato ad un bando ministeriale PINQUA, Programma Innovativo Nazionale Qualità dell'Abitare, finalizzato alla riduzione del disagio abitativo. Abbiamo fatto una valutazione sismica e statica dell'edificio e abbiamo visto che praticamente merita più intervenire con una demolizione, una ricostruzione che con una riqualificazione semplice. Ci saranno poi anche dei varchi per poter accedere da via Garibaldi? Esatto, praticamente il nuovo immobile prevederà uno spazio di 1400 metri quadri e utilizzerà quella che è un po' l'architettura degli edifici esistenti e prevederà appunto come già nel modello attuale tre varchi che permetteranno la permeabilità pedonale tra Piazza della Cadorna e Piazza del Popolo. Il progetto vede però inevitabilmente l'addio ai murales di Castica, opere che già in passato erano stati oggetto di un lungo dibattito che alla fine era sfociato anche in una petizione per chiedere al primo cittadino di preservarle. Purtroppo il murales quando fu fatto venne data la destinazione attaccato a un edificio che era pericolante. Questa valutazione non fu fatta e oggi purtroppo deve essere presa in considerazione. Sicuramente riparleremo con chi ha portato avanti l'opera e cercheremo una zona idonea per portare avanti un nuovo murales. L'obiettivo dell'amministrazione nel lungo periodo per la zona sarà poi quello di riorganizzare tutto il concetto della piazza per renderla così un luogo di incontro e non più di parcheggio. Prevediamo una zona verde che andrà nell'area parcheggiora, un nuovo edificio che praticamente sarà in mezzo alle due aree e un nuovo parcheggio multipiano che comprenderà chiaramente tutti i parcheggi attuali compresi nuovi. Questo progetto ben più ampio, delle tempistiche più lunghe? Assolutamente sì, andiamo molto avanti. Grazie.